Eccoci, buonasera. Allora, vediamo subito che cosa è successo oggi. È stata una giornata molto importante per la politica italiana. Oggi e questa mattina tutti i big sono sfilati in Parlamento. E' già vedere il Parlamento riunito l'11 agosto per una riunione tesa, una riunione di commissione, per la prima volta forse una riunione non in aula ma di commissione ha riscosso così tanto interesse. Perché? Perché al centro della discussione dovevano essere le misure d'emergenza del Parlamento, del Governo, quindi del Parlamento, da votare in Parlamento per fronteggiare la crisi economica e finanziaria. Una serie di provvedimenti di cui si parla ma che ancora, ve lo dico subito, non sono conosciuti. Il Ministro Tremonti ne ha parlato, ne ha evocati, ha accennato ad alcuni temi che stanno nella famosa lettera segreta inviata dalla Banca Centrale Europea al nostro Governo per indirizzare le misure da prendere con urgenza. Tutti i leader di maggioranza e opposizione hanno detto la loro, hanno cercato di impostare il discorso ma con insoddisfazione di molti Tremonti non si è sbottonato sulle misure da prendere. Per quel che si sa però la gran parte delle decisioni è condizionata a una serie di eventi incrociati che sono all'interno della stessa maggioranza. Berlusconi non vuole la patrimoniale, Bossi non vuole che si tocchino le pensioni e da parte di altri esponenti del mezzogiorno, ad esempio, dell'area del sud, del PDL, non si vuole che si tocchino alcuni elementi cari alla tassazione del mezzogiorno e quindi diventa difficilissimo il compito del Ministro dell'Economia, del quale si evocano di fronte alle critiche incrociate all'interno della stessa maggioranza ancora una volta le dimissioni. Sono voci che circolano ovviamente nell'ambiente politico ma è evidente che Tremonti non ha nessuna intenzione di non andare avanti. In tutto questo è stato il Capo dello Stato a riprendere l'iniziativa. Nel corso della giornata ha ricevuto il Presidente del Senato ma anche il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e Gianni Letta, il Sottosegretario della Presidenza, ma anche Pier Ferdinando Casini e Pierluigi Bersani, due dei leader dell'opposizione, come delle vere e proprie consultazioni, come se ci fosse una crisi di governo. In realtà c'è una situazione di emergenza. In tutto questo, in questo clima drammatico, la Borsa cosa ha fatto? È andata bene, benissimo come non era mai andata nelle scorse settimane. Ha guadagnato più di tutte le altre del contenente, ha guadagnato il 4%, sulla scia comunque di un rimbalzo generale. Eppure la situazione resta quella che è. Il Paese deve assolutamente scegliersi, attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, deve scegliere una manovra molto dura e su questa manovra grava anche lo spettro di quella parolina che non si pronuncia mai in campagna elettorale perché è sinonimo di sconfitta. La patrimoniale, la tassa più forte e più temuta. Parleremo di tutto questo nel giornale, ma anche evidentemente di Londra, dove anche lì il Parlamento si è riunito, la Camera dei Comuni, in pieno agosto, come non era successo praticamente quasi mai in tempo di pace, ma è tempo di pace relativo per quello che si è visto nelle metropoli inglesi in queste ultime sere e nottate. Un vero e proprio stato di guerra con misure di emergenza. E c'è da dire anche che una delle inchieste più scottanti a livello di magistratura italiana degli ultimi anni, la cosiddetta P4, subisce una scossione dalla Cassazione. Infatti le indagini sul generale della Guardia di Finanza di Nolfi spettano a Roma e non a Napoli. Va via un pezzo, e forse non soltanto un pezzo importante, di quell'inchiesta in mano alla Procura partenopea. Questo è altro, tra poco nel telegiornale. Il discorso di Tremonti con le misure anticrisi divide il governo. La tensione della maggioranza a questo punto è altissima, con Bossi che definisce l'intervento del Ministro dell'Economia troppo fumoso. Mentre quattro fedelissimi berlusconi vanno all'attacco e dicono che il nostro voto non è affatto scontato. E la politica, stavolta si dice pronta a cantonare le logiche di bandiera in fronte all'interesse nazionale, ma il problema è la chiarezza sulle misure da adottare. Fini dice che sono allibito, Berlusani invoca che al governo non tremino i polsi. Di Pietro dice che questo è un governo commissariato. Nel pomeriggio cambio di scenario politico con il Presidente Napolitano, che è rientrato anticipatamente dalle vacanze e compie quasi un giro completo di consultazioni. Vede Berlusconi, Tremonti, Eletta, ma anche Bersani e Casini e il Presidente del Senato Schifani. Per domani anche fissato l'incontro del Presidente della Camera Fini. Sullo sfondo di questa manovra rimane quello che molti giudicano il provvedimento innominabile, ma forse più efficace, la patrimoniale. Secondo alcuni è una misura di sinistra, ma per molti economisti è uno strumento di redistribuzione del reddito in tempo di crisi. Ha un difetto, fa perdere le elezioni. E mentre la politica litiga su come fronteggiare la crisi, i mercati regalano una giornata di tregua. Le borse tornano a respirare, Piazza Fari addirittura chiude con un vistoso più 4,1%, il miglior risultato in Europa. Passa da Napoli a Roma una parte non certo secondaria dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. La Cassazione ha raccolto i ricorsi e ha ritenuto i PM napoletani incompetenti a indagare sulla presunta fuga di notizie del generale Adinolfi, quella che avrebbe consentito a Luigi Bisignani di conoscere in anticipo le mosse dei magistrati. Anche in Gran Bretagna la politica ha lavorato in pieno agosto per le violenze che hanno seminato paura a Londra e nelle altre grandi città inglesi. Il Premier Cameron insiste nella linea dura e chiede di vietare maschere e cappucci per i ragazzi e bloccare i social network. Buonasera, allora come avete sentito una giornata che forse è da autunno caldo ma si è svolta in pieno agosto. L'audizione a commissioni riunite del Ministro dell'Economia Tremonti, l'intervento di tutti i big è stato evidentemente qualcosa di insolito ma come sappiamo in gioco ci sono le sorti del Paese e non è una frase fatta, una frasona retorica. Sono in molti a dire che sono le giornate cruciali per la vita di questo decennio del nostro Paese. Ci sono da decidere misure che in gran parte ci vengono imposte dall'Europa ma che noi poi dobbiamo concordare per la loro efficacia in Italia. Bisogna decidere cosa fare sulle pensioni, bisogna decidere su cosa fare per tasse vecchie e nuove, bisogna decidere cosa fare per sgravi, bisogna decidere cosa fare dello stato sociale, del welfare, cosa tagliare. Non ci possiamo più permettere di vivere come abbiamo vissuto fino ad oggi. Alcune misure dure devono essere prese subito. Già, ma quale? Molti si aspettavano che il ministro Tremonti le avrebbe elencate in questo incontro di stamattina così importante. Non è stato così, ve lo dico subito. E le parole che hanno seguito l'audizione di Tremonti, la relazione di Tremonti, sono state da questo punto di vista eloquenti. Pensate che a parlare sono stati davvero quasi tutti i big. Sono intervenuti in commissione Bersani, Alfano, Casini, Reguzzoni, Di Pietro e poi tutti gli altri, come a dire quanto era importante questa riunione. Vediamo. Con qualche scetticismo dopo il nulla di fatto di ieri, è vero, ma l'approdo della manovra bis nello straordinario Parlamento agostano era atteso come il giorno della verità delle carte in tavola del governo. Con tutti i leader schierati nelle commissioni congiunte a fare il costituzionale bilancio di Camera e Senato, e Tremonti a riferire, a invocare, si pensava, l'apporto di tutti alle misure lacrime e sangue per la salvezza del paese. Ma non è stato niente di tutto questo. Poco dopo le 11, l'esordio di Tremonti sull'articolo 81 della Costituzione, da cambiare per inserire il vincolo del pareggio di bilancio. Poi il ministro entra nel vivo. Da luglio dice che è cambiato tutto, sono crollati i mercati e è arrivata la famigerata lettera della BCE. Per un anticipo della manovra dal 14 al 13, indicazione che trova un riscontro in una lettera marcata come strettamente confidenziale dall'autore. Missiva rafforzata dai suggerimenti, così li chiama Tremonti, di Francia e Germania. Nella lettera Trichet e Draghi, la richiesta di misure durissime su liberalizzazioni e privatizzazioni e sul mercato del lavoro. Appaiono anche le parole di vittorio licenziale. Non è detto che tutto questo sia parte della condivisa attività del governo. Chiesto anche il taglio dei dipendenti pubblici, ma questo non lo faremo, assicura il ministro. Più tasse sulle rendite finanziarie, lotta all'evasione e contributo di solidarietà agli altri capitoli annunciati. Manca ogni dettaglio, i lavori sono in corso, le scelte politiche ancora da fare, spiega Tremonti. Intanto è arrivato Bossi, nella versione fuoco amico. Di cosa si è parlato ieri sera con Berlusconi, gli chiedono. Di rotture di coglioni, risponde. Il leader della Lega apre sulle pensioni, ma quelle delle donne non si toccano, dice in aula il capogruppo Reguzzoni. Mentre Bossi all'uscita liquida il discorso del forse ex amico Tremonti come troppo fumoso e la lettera delle BCE come un complotto. Contro il fuoco amico e in difesa del governatore di Banca Italia, positivo il suo contributo alla tenuta del nostro sistema economico, intervengono i vertici del PDL, Cicchito e Quagliariello, mentre nella sala del Mappamondo la parola passa alle opposizioni. Un governo sfiduciato, senza idee e diviso, fa parte dello scenario di crisi, insiste Bersani. Noi siamo pronti al confronto, ma il problema è su cosa? Perché qui è tempo di agire, siamo già in ritardo. Io chiedo formalmente che al governo non tremi il polso. Non tremi il polso. Tocca al segretario del PDL Alfano cercare di riaprire al contributo delle opposizioni come Tremonti non ha fatto. E siamo chiamati a passare per la porta stretta. Io davvero, ma lo dico con grande sincerità, davvero mi auguro che da questa porta stretta possiamo passare insieme, perché se passeremo insieme da quella porta stretta, sarà l'Italia che l'avrà passata. Da questa porta dobbiamo passare tutti all'apertura di credito di Casini. Siamo tutti commissariati, governo, opposizione e paese, ma è un bene, però serve chiarezza. Io ringrazio per la cortesia il ministro Tremonti, non lo ringrazio per la sostanza, le devo dire la verità. Mi auguro solo che lei abbia le idee così chiare che non ce le ha volute dire per non bruciare il decreto. Se fosse così avrebbe fatto bene, ma lo vedremo di qua a qualche giorno, perché effettivamente io avevo capito di più dalla lettura dei giornali di quanto abbia capito. A mezzo giorno e mezzo tocca a Di Pietro calcare la scena con i consueti fuochi d'artificio raccogliendo quelli accesi da bossi su Tremonti Fumoso. Ma la prossima volta che viene ci porti un documento scritto su cui poter dire su questo condividiamo e su questo non condividiamo. Non ci potete chiedere al buio di scegliere di appoggiarvi, anche perché ogni volta che avete fatto qualcosa avete bisogno una settimana dopo di ristrutturare la casa perché voi stesse dite che non siete capaci di farla bene. Poco dopo le 13 il pallino torna a Tremonti, che ne ha per tutti. Risponderò con questo anche al ministro Bossi. È ben difficile, prima di fare un decreto legge annunciato, prima di andare dal capo dello Stato a mercati aperti, essere più precisi di come sono stato io. Tra l'altro, per essere chiari, non abbiamo chiesto aiuto. Abbiamo chiesto le vostre proposte, abbiamo chiesto di discutere, non abbiamo chiesto aiuto. Sbattuto alla porta, Tremonti attacca Pungente, Bersani, Bocchino e Casini. Tanto che il leader dell'Udc viene intercettato a commentare un drastico, ma questo è scemo e da ricoverare. E anche il presidente della Camera Fini si dichiara allibito dalla replica di Tremonti. Alta tensione quindi, anche se tecnicamente le parole di Tremonti sono comprensibili. Della manovra non si parla a mercati aperti, soprattutto se la si deve ancora varare, della manovra non si parla prima di averne parlato al capo dello Stato. Già, perché il Boccino è passato proprio al Quirinale, nel pomeriggio. Quasi, è il caso di dire, delle vere e proprie consultazioni da crisi di governo. Napolitano ha visto insieme Berlusconi, Tremonti e Letta, ma ha visto anche prima Pierferdinando Casini e poi anche Pierluigi Bersani, due, ma solo due, dei leader dell'opposizione. E' già incontrato anche il presidente del Senato Schifani. Domani le draffine. E' il Quirinale che prende nel pomeriggio in mano il pallino. Rientrato in anticipo a Roma, Giorgio Napolitano convoca per le 17.30 il Premier e, separatamente, i principali leader dell'opposizione, Bersani e Casini. Una sorta di giro di consultazioni, completato da un colloquio con il presidente del Senato Schifani e da un appuntamento per domani con quello della Camera Figli. Una mobilitazione preventiva della politica e delle istituzioni in vista del decreto che il governo dovrà varare in un Consiglio dei Ministri che potrebbe tenersi già domani sera o forse addirittura sabato. La Roma dei Palazzi è tutta allertata, emergenza assoluta. Siamo pronti a riaprire le commissioni subito dopo Ferragosto, fa sapere Schifani. Due ore prima di salire al Colle, alle 15.30, Silvio Berlusconi lascia Palazzo Grazioli per spostarsi a Palazzo Chigi, dove l'aspetta il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, colui che nella versione di Bossi, prontamente sconfessata dal PDL, sta tentando di far saltare il governo. Il riferimento del leader leghista è alla ormai famosa lettera scritta a quattro mani da Draghi e Trisce, nella quale si indicano al governo italiano le misure per salvare il paese dal rischio Grecia. 40 minuti di colloquio e il governatore lascia Palazzo Chigi per i maligni, ha portato il decreto che il governo non si decide a scrivere. A 17.20 tocca a Berlusconi lasciare Palazzo Chigi direzione Quirinale, con lui Gianni Letta e Tremonti. I tre restano al Colle meno di un'ora. Napolitano è pronto a sostenere gli sforzi richiesti al paese. Ha chiesto alle opposizioni senso di responsabilità, ma vuole dal governo il massimo della chiarezza. Nella maggioranza intanto monta la protesta per le misure straordinarie ventilate da Tremonti. L'abbordata contro il superministro parte da quattro fedelissimi del Premier, Giorgio Stracquadagno, Isabella Bertolini, Lucio Malan e il sottosegretario della difesa Guido Crosetto, non nuovo ad uscite ad effetto contro Tremonti. Era stato lui a creare un caso due mesi fa, definendo da psichiatra la manovra originaria. I quattro definiscono l'intervento del ministro deludente. Aspettiamo il decreto, ma il nostro voto non è scontato. Un segnale di guerra che altri esponenti del PDL non sottoscrivono, ma approvano. Il no ad ipotesi di patrimoniali o prelievi straordinari in modello eurotassa di Prodi, che nella versione tremontiana viene subito ribattezzata neurotassa. L'altro segnale arriva da tre parlamentari di Forza Sud, il movimento di Gianfranco Miciche. Non voteremo misure che penalizzano il mezzogiorno, fanno sapere. Senza dimenticare dal fronte nordista quel Tremonti fumoso pronunciato oggi da Bossi. A completare il quadro, la battaglia contro Italia e la sanità annunciata dagli antilocali, in testa il governatore Lombardo Formigoni, il sindaco di Roma Alemanno, una sorta di accerchiamento condito dalla diffusione di voci, rivelatesi infondate, di dimissioni dello stesso Tremonti. Già questo è il clima che si respira e per di più aleggia sempre quella parolona patrimoniale che evoca la tassa più drastica e per questo quella più invocata e contemporaneamente più temuta, anche perché è difficile ricordare che qualcuno abbia imposto, come succede nei tempi più difficili, nei momenti di crisi, la patrimoniale e poi abbia vinto le elezioni. Il problema di queste ore è uno solo, trovare tanti soldi è subito e uno dei modi più semplici ed efficaci e inutile girarci intorno è la cosiddetta patrimoniale. Chiamatela eurotassa o contributo di solidarietà, tecnicamente la patrimoniale è una tassa che viene calcolata invece che sul reddito, appunto sul patrimonio del contribuente. Soldi, conti correnti, barche, gioielli, immobili, azioni, abitazioni, cavalli, insomma tutto ciò che può avere un valore. Oggi come oggi escluderemo le obbligazioni, botta, altrimenti nessuno li comprerebbe più. Ci sono nazioni che già tassano i grandi patrimoni, Svezia, Norvegia e Francia, dove si paga l'imposta di solidarietà sulla fortuna che va dallo 0,50% fino all'1,8 per chi ha più di 16 milioni di euro. Questa tassa infatti può essere progressiva oppure fissa, come fece Giuliano Amato con la patrimoniale più famosa d'Italia. Era il 1992 e Amato, per permettere alla lira di rimanere agganciata al sistema monetario europeo, andò ad acchiapparsi, era il 10 luglio di venerdì sera, il 6 per 1000 dei conti correnti. Patrimoniale è anche l'imposta di successione abolita da Berlusconi e poi reintrodotta da Prodi, ma siccome non si può contare sul fatto che un bel po' di benestanti passino a miglior vita nei prossimi mesi, meglio cercare altre strade. Patrimoniale era lici sulla prima casa, anche questa abolita da Berlusconi, e in vigore oggi solo sulle seconde case e una delle ipotesi probabili è infatti di puntare qua. Una volta acclarato che la prima casa è intoccabile, puntare sulla casetta al mare o in montagna ha il sapore di maggiore equità. Già, perché la principale accusa, come sovente dicono Berlusconi e Bossi, è che la patrimoniale sia una misura di sinistra, ma molti economisti liberal la vedono né più né meno come un valido strumento di redistribuzione del reddito in tempo di crisi, usare i soldi della patrimoniale per ridurre le tasse sui dipendenti e su chi fa impresa, che secondo le statistiche dell'Ocse sono tra le più alte d'Europa, Danimarca esclusa. Tutto ciò stimolerebbe l'economia e la crescita. Ma, e qui si arriva ai contro, non è detto che la patrimoniale poi colpisca davvero i più ricchi, i cui beni, l'esempio è quello delle megaville e delle yacht, spesso vengono intestati a società costruite ad hoc, meglio se all'estero. La patrimoniale dunque colpirebbe solo quelli che non possono permettersi di mettere in piedi società in paradisi fiscali. Ma adesso allora, che succede? Perché la questione è che le misure devono essere varate in gran fretta. Prima si fanno, meglio è. Questa mattina sui giornali, illustri commentatori hanno detto che non si può aspettare il 18 agosto, come era stato detto giusto ieri dal Presidente del Consiglio come ultima data. tant'è che questa mattina appunto si è sparsa la voce che si è consolidata nel pomeriggio addirittura di un Consiglio dei Ministri domani sera o al più tardi addirittura sabato. Siamo in piena emergenza, si parla del 12 e del 13 agosto, misure che sarebbero valide già da ferragosto. Questo dà l'idea della gravità della situazione e dell'urgenza delle misure da prendere. Ma ancora poco è chiaro, tant'è che poco fa è stato intercettato Umberto Bossi che evidentemente è quello che ha più voglia di parlare in queste ore e gli è stato chiesto domani ci sarà il Consiglio dei Ministri vado a vedere oggi non era ancora chiaro niente adesso facciamo il punto da Berlusconi quindi tutto in piedi tutto in corso d'opera noi quello che possiamo fare in queste ore così difficili è tenervi informati il meglio che possiamo ma oggi dicevo è stata una giornata cruciale eppure c'era semmai da brindare così come ieri durante il brevissimo incontro governo parti sociali era arrivata come una mazzata la notizia della borsa che aveva perso oltre il 6,5% oggi semmai c'era da dire è andata a Benone Ilieto fine c'è ma quella delle piazze finanziarie europee oggi è stata di nuovo una giornata molto difficile passata tutta in corsa sulle montagne russe stesso copione da Milano a Londra da Francoforte a Parigi fino a Madrid apertura in positivo dopo i tracolli di ieri poi quando gli investitori erano convinti di aver toccato il fondo ecco che è arrivato quello che gli analisti definiscono un rimbalzo tecnico chi ha venduto allo scoperto cioè comprando i titoli che non possedeva ancora è riuscito finalmente ad incassare ottimismo chiama ottimismo e gli indici hanno superato tutti i due punti di guadagno intorno a mezzogiorno mentre Tremonti stava bozzando alle commissioni parlamentari le misure anticrisi ma sono stati i rumors in arrivo dalla Francia a far tremare di nuovo i mercati si rincorrono voci di altre 713 milioni di perdite che la banca francese BNP Paribas deve mettere a bilancio proprio a causa della crisi greca già ieri la stessa banca era finita nella bufera con la concorrente Societe Generale così nonostante le smentite il listino di Parigi crolla e virano tutti come una squadra aerea che batte in ritirata Francoforte Milano Londra Madrid ma non è finita da New York Wall Street apre in positivo sulla scia delle minori richieste dei sussidi di disoccupazione e se come sembra fiducia chiama fiducia alle 16 piazza affari prende la rincorsa e torna a salire a ritmo spedito trainata anche dalla notizia che Sarkozy e Angela Merkel si incontreranno martedì per discutere della crisi economica e via decollano le banche soprattutto popolare di Milano che registra un più 10% e Intesa che si ferma al 6,71% e vanno benissimo tra gli industriali ST Microelectronics che supera il 10% Pirelli Fiat Industrial e tra gli assicurativi Fonsai e Generali e mentre il differenziale tra i buoni polinnali del tesoro italiani e i Bund tedeschi si abbassa anche oggi di qualche punto grazie all'intervento della BCE Milano tira un sospiro di sollievo e chiude a quota più 4,1% un successo emulato dalle altre piazze del vecchio continente che chiudono tutte in attivo Francoforte al 3,28% Londra al 3,11% Parigi al 2,89% e Madrid al 1,72% è difficile prevedere come andrà domani meglio dunque prendere qualche beneficio qualche guadagno già oggi nel timore che venerdì il folletto del panico si insinui di nuovo tra i listini prima di uno stop di tre giorni causa ferragosto vediamo brevissimamente se è possibile come sta andando la borsa di New York come vedete sta guadagnando l'indice Dow Jones il 3,70% quindi una giornata borsistica di rimbalzi in tutto il mondo che si sta concludendo appunto nello stesso modo con un segno deciso segno più anche a Wall Street la borsa di New York andiamo allora alla cronaca a vedere come l'inchiesta più scottante degli ultimi mesi quella sulla cosiddetta P4 quella che ha portato all'arresto del parlamentare Papa gli arresti domiciliari per Luigi Bisignani vive oggi un colpo di scena che potrebbe cambiare proprio tutto una parte consistente dell'inchiesta lascerà Napoli e passerà a Roma per una battaglia una battaglia legale vinta da uno degli indagati il generale della guardia di finanza Adinolfi la famosa cena della fuga di notizie riservate al centro dell'inchiesta P4 si è svolta a Roma gli atti quindi sono di competenza della procura della capitale così la Cassazione oggi ha accolto la richiesta del difensore del capo di Stato Maggiore della Finanza Michele Adinolfi indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto con l'accusa di aver fatto sapere indebitamente a Bisignani che si stava indagando su di lui a chiamare in causa il generale fu l'onorevole Marco Milanese sul quale pende una richiesta di arresto alla Camera per la stessa inchiesta ne avrebbe raccolto la confidenza durante una serata a casa dell'editore Marra ecco cosa disse interrogato dai magistrati napoletani ricordo perfettamente che durante la cena mi si avvicinò Michele Adinolfi il quale mi disse espressamente che aveva mandato Pippo Marra amico del Bisignani ad avvisare il Bisignani stesso del fatto che la procura della Repubblica di Napoli gli stava addosso e lo aveva sotto e cioè che stava svolgendo indagini su di lui il provvedimento della Cassazione smonta ad una ad una le obiezioni dei PM napoletani il reato sarebbe stato commesso a Roma e il fatto conta perché è la legge che lo fa contare contestata anche la parte in cui si dice che Adinolfi avrebbe commesso i reati in concorso con il generale delle Fiamme Gialle Vito Bardi anche lui indagato dalla procura di Napoli per rivelazione di segreto d'ufficio si tratta di due vicende separate scrive la Cassazione il favoreggiamento verso Alfonso Papa il parlamentare del PDL finito in carcere per la P4 non può in alcun modo attrarre la competenza per il favoreggiamento verso Bisignani il fascicolo che riguarda Adinolfi finirà sul tavolo del procuratore aggiunto di Roma a Caperna rispetto ma non condivido l'interpretazione della Cassazione ha detto il capo della procura di Napoli l'epore bisogna guardare anche alla connessione dei reati non solo dove sono stati commessi ma a caso Adinolfi a parte l'impianto dell'inchiesta è confermato abbiamo visto come il nostro Parlamento si sia riunito sia pure con una commissione che era però avete visto popolata da tutti i big nel pieno dell'agosto la stessa scena si è vissuta a Londra perché come sapete lì c'è ben altra emergenza forse meno importante dal punto di vista dell'economia ma certo dal punto di vista dell'ordine pubblico un'emergenza assoluta il paese blindato e la Camera dei Comuni riunita in seduta straordinaria come un consiglio di guerra si presenta così oggi la Gran Bretagna il quinto giorno di emergenza nazionale con il premier David Cameron che come un comandante in capo sbandiere i successi ottenuti e rilancia la sua linea dura come l'unica possibile per fermare le rivolte che infiammano l'Inghilterra pagherete per quello che avete fatto esordisce infatti all'inizio del suo discorso poi rincara la dose e annuncia misure straordinarie di ordine pubblico la polizia avrà diritto in casi specifici dice di rimuovere qualsiasi cosa copra il volto di possibili sospetti siano maschere cappelli o cappucci e poi ancora non esclude che in caso di ulteriori disordini possa essere utilizzato addirittura l'esercito seppure con compiti secondari in modo da liberare il maggior numero possibile di agenti da impegnare in prima linea nei centri urbani poi incalzato dalle domande dei parlamentari annuncia anche un attacco senza precedenti ai cosiddetti social network ovvero i canali di comunicazione via internet attraverso i quali secondo le forze dell'ordine molte bande organizzerebbero il loro ride leggi Blackberry Messenger o Twitter un'operazione di controllo e censura che avverrebbe per la prima volta in occidente stiamo lavorando con la polizia spiega Cameron e con i servizi di intelligence per capire se sia possibile e corretto impedire alle persone l'utilizzo dei network quando sappiamo che stanno pianificando attacchi o azioni criminali e mentre il premier parla la polizia già lavora dalle prime ore di questa mattina sono in corso a Londra rastrellamenti a tappeto nelle case di possibili responsabili dei disordini finora sono state fermate quasi mille persone nella capitale e la metà è stata incriminata una linea che comunque sembra pagare da diverse ore infatti la situazione sembra tornata tranquilla sia a Londra che fuori niente più disordine o saccheggi di negozi né a Liverpool né a Birmingham dove per le strade del quartiere multietnico restano solo i mazzi di fiori per ricordare tre giovani vittime di questa improvvisa ondata di violenza che ha messo a ferro e fuoco i soborghi più disagiati della provincia inglese e a quanto pare si profila un cambio della guardia in due istituzioni importanti il CNR il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al posto di Luciano Maiani che ha guidato fino ad oggi il CNR andrebbe secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA Francesco Profumo direttore del Politecnico di Torino mentre Enzo Boschi che da sempre ricordiamo come capo come presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe andare Domenico Giardini che di Boschi è stato peraltro allievo le nomine dovrebbero essere annunciate dice l'ANSA nei prossimi giorni dal Ministro Gelmini ora andiamo allo spot perché si profila una clamorosa trasferimento di uno dei grandi campioni che militano il campionato italiano 20 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni un ingaggio da capogiro Samuel Eto'o è ad un passo da lasciare l'Inter per approdare all'ANSI lo scrivono in Russia lo conferma il procuratore del Camerunense secondo il quale il giocatore ha già trovato l'intesa con il club del miliardario Kerimov e l'Inter non smentisce non ci voleva molto la proposta è quasi indecente Eto'o diventerebbe di gran lunga il calciatore con l'ingaggio più alto al mondo più di Cristiano Ronaldo fermo si fa per dire a 12 milioni l'ufficializzazione arriverà soltanto ad inizio della settimana prossima ma l'affare è fatto lunedì le visite mediche e poi la firma Eto'o in questi giorni è in Camerun tornerà a Milano soltanto domenica in cuor suo sperava di essere considerato incedibile soprattutto dopo aver portato con i suoi gol l'Inter a vincere qualsiasi trofeo in due stagioni e invece i dirigenti neroazzurri non lo hanno più considerato intoccabile le cifre della trattativa sono impressionanti all'Inter andrebbero tra i 35 e i 40 milioni di euro al giocatore in totale 60 milioni un'operazione dunque da un centinaio di milioni di euro briciole per Suleyman Kerimov proprietario del club e che fa parte dell'oligarchia dei magnati russi uno degli uomini più ricchi del mondo con partecipazioni in banche, petrolio e soprattutto miniere d'oro Eto'o a Lanshi troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano anche lui ex neroazzurro Roberto Carlos primo colpo di calcio mercato nello scorso mese di febbraio Lanshi gioca le partite casalinghe nel Dagestan ma per il resto della settimana per motivi di sicurezza i giocatori vivono e si allenano a Mosca poco meno di 1600 km di distanza attualmente la squadra è quarta nel campionato russo dietro alle potenze CSKA e Zenit di San Pietroburgo di Spalletti con l'arrivo di Eto'o il miliardario Kerimov punta in alto dopo i no ricevuti da Gattuso e lo spagnolo Raul e c'è un aggiornamento importante ancora ve l'avevo detto in queste ore Bossi è quello che parla di più e ci dà più voci da dentro su quello che sta succedendo dopo aver incontrato Tremonti brevemente prima di andare a Palazzo Grazioli dove in questo momento è riunito con Berlusconi vedremo se saranno varate le misure che potrebbero già domani arrivare in Consiglio dei Ministri richiesto di come è andato l'incontro con Tremonti e se lo ha convinto sulle pensioni Bossi ha risposto testualmente no non mi ha convinto bisogna saper dire anche dei no perché altrimenti si rischia una crisi così parlò Bossi di tutte queste cose sicuramente si parla tra poco a Inonda dove ospiti di Luisella Costamagna sono due direttori di giornali Secchi del Tempo e Padellaro del Fatto Quotidiano e c'è anche collegato Bortolussi uno dei dei maghi delle statistiche sociali ci fermiamo allora riassumendo è in corso un vertice a Palazzo Grazioli residenza privata del Premier con Berlusconi c'è Umberto Bossi sono stati raggiunti anche dal Ministro per la Semplificazione Leghista Calderoli l'incontro è stato preceduto da alcune battute di Bossi che vi ho riferito poco fa sull'esito non positivo di un breve colloquio tra lo stesso Bossi e Tremonti sulla possibilità di toccare le pensioni così si rischia la crisi c'è ovviamente attesa turbolenza Bossi ha detto anche non ve l'ho riferito prima richiesto se andrà anche lui a consulto da Napolitano se c'è da farsi vedere andrò anch'io con un tono evidentemente un po' irredente per chi è andato al consulto al Quirinale è evidente che sono ore decisive noi ovviamente vi informeremo tempestivamente adesso la linea va in onda qui appuntamento domani buonasera grazie a tutti